signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e in questo nuovo episodio della rubrica il salotto sul crogiolo quest'oggi qui con me ho il piacere di avere un ospite che porta sul suo canale molti contenuti interessanti soprattutto rivolti al collezionismo di carte pokemon signore e signori ho l'onore di avere qui in mia compagnia luca del canale make a wish grazie infinite per aver accettato il mio invito ciao ciao grazie a te di avermi invitato assolutamente grazie luca parlaci un po di te soprattutto della tua passione per il collezionismo lo sei sempre stato un collezionista intendo allora diciamo che la mia passione per il collezionismo nasce proprio nasce da quando ero piccolo 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 e forse io appunto colleziono carte pokemon e però in un modo o nell'altro diciamo che il collezionismo ha sempre fatto parte della mia vita forse magari senza neanche rendermene conto è una cosa un po un po un po strana che però appunto riflettendoci forse mi sono reso conto che proprio il collezionismo era parte di me comunque appunto nasce la la passione per il collezionismo specialmente appunto per le carte pokemon nasce nel nel 2000 quando la prima volta arriva arriva pokemon rosso sul mio game boy per per il compleanno da lì a poco escono le carte e da lì è finita insomma è finita è stata la mia principale passione ovvero appunto se all'elementari qualcuno mi chiedeva cosa volevo fare da grande la risposta era l'allenatore di pokemon ovviamente e diciamo che adesso andando un po più avanti nel tempo chiaramente ho un 30 anni suonati adesso e la 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 passione specifica per il collezionismo delle carte pokemon diventando diventando insomma un po più andando verso l'adolescenza l'avevo persa e l'ho riscoperta intorno al 2017 2017 2018 forse con appunto con mio nipote mio nipote ai tempi appunto aveva sei anni penso vedo le carte pokemon vedo le carte pokemon in mano in mano a mio nipote e da lì riparte proprio tutto il circolo vizioso del collezionismo quindi sono ritornato agli albori e adesso insomma collezionare le carte pokemon fa parte proprio della mia esistenza quindi come ti è nata la passione per i pokemon credo che tu ci abbia risposto più che ampiamente ma una domanda che voglio effettivamente farti è perché hai scelto proprio il tcg di pokemon piuttosto che altri tcg tipo ad esempio magic flash and blood digimon ad esempio che per carità un appassionato di pokemon parlargli di digimon è un'eresia però comunque perché a me ultimamente hanno detto che i digimon un appassionato un grande appassionato di pokemon è come prendere un frigorifero mettergli due mitragliatrici e mandarlo a combattere praticamente è quasi la stessa identica cosa però io ovviamente da questo mi dissocio non lo so io sono devo essere super partes in questo però come ti è nata effettivamente la passione proprio per il tcg di pokemon allora diciamo che appunto come è partita l'abbiamo l'abbiamo già detto il come si è mantenuta nel tempo è effettivamente in inglese si direbbe con trial and error ovvero io ho avuto a che fare con yugioh ho avuto molto a che fare con con magic ovviamente non competitivamente ma crescendo verso le medie i miei amici sono tutti passati dal gioco un po più bambinesco di pokemon a yugioh a magic quindi abbiamo giocato tantissimo sui marciapiedi sulle strade e tutto eppure eppure la passione la 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 quella 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 voglia incredibile di aprire i pacchetti e scoprire effettivamente quello che trovo non l'ho ancora trovata in nessun altro gioco e sia chiaro io veramente ho provato di tutto io giochicchio un po con le carte ma sono principalmente un collezionista e appunto secondo me veramente per i collezionisti puro sangue come 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 potrei essere io non c'è veramente niente di meglio se non pokemon tu sei un collezionista diversi contenuti pubblicati sul tuo canale youtube definiscono questo concetto appieno la tua esperienza ce l'hai accennata ma io vorrei farti una domanda che va molto più nel profondo ovvero quando è che hai iniziato a collezionare soprattutto con che cosa hai iniziato sì allora con che cosa ho iniziato appunto l'abbiamo detto accennando accennando appunto a come ho come ho principalmente iniziato erano avevo sei anni avevo sei sette anni forse e appunto sì il set base uscito nel nel 2000 qui in italia è il primo set che ho quasi ricordo benissimo quasi completato ma c'è sempre c'è sempre stato quel quasi che mi ha che mi ha veramente rovinato un po l'esistenza fino a quando poi trent'anni dopo l'ho finalmente completato il set base e poi quella quella voglia irrefrenabile di collezionare ogni singola carta pokemon mi è durata per un paio d'anni forse anche tre anni appunto fino ad arrivare alle alle serie neo di pokemon dove introducevano già la seconda generazione quindi era già tutto nuovo tutto tutto diverso e poi con la fine della serie della serie neo c'è stato il grande cambio di layout delle carte quindi a partire da expedition uscito nel 2002 se non erro 2002 forse addirittura 2003 e dove lì cambiava cambiava tutto da da una dei bordi molto definiti e fini si introducevano dei dei bordoni su un lato gialli estremamente che riempivano un po troppo la carta e ricordo che appunto parlando anche tra me con i miei amici con i pochi che già non avevano cambiato erano andati su altri giochi effettivamente era abbastanza condiviso il fatto che non ci sentivamo più rispecchiati in quelle carte quindi appunto li abbiamo un po mollato e poi si ricomincia appunto con il blocco sole luna nel 2017 2018 per poi appunto continuare fino fino adesso quindi tu hai praticamente sospeso la tua attività di collezionista per quanti anni cavolo fai conto sarà appunto 2002 2003 ricordo qualche pacchetto aperto con mio fratello forse nel 2009 perché ho trovato ho trovato nella mia stanza ritornando poi appunto nella mia vecchia cameretta carte del 2009 2010 quindi appunto del set art console silver che non ho assolutamente idea di come facevano ad essere lì quindi forse forse ricordo di averle di aver aperto qualcosa con mio fratello che ha appunto quattro anni meno di me e però diciamo che se togliamo questo queste queste piccole idee o ricordi fumosi che non so se siano mai stati veri o meno io ho sospeso il collezionismo per quasi 15 anni e poi appunto ripreso per farvi capire a voi che state guardando che le passioni non muoiono mai si assopiscono ma non muoiono mai e legandomi a questa domanda la maggior parte delle persone che si avvicina a pokemon si avvicina per il lato ovviamente collezionistico e quindi la domanda che ti faccio è perché ti sei avvicinato proprio al lato collezionistico di pokemon piuttosto che non come giocatore allora ci sono ci sono due domande cioè due domande ci sono due risposte alla tua domanda la prima sicuramente proprio per cos'è pokemon per cosa rappresenta pokemon la catchphrase di pokemon è gara catch em all li devi prendere tutti quella è proprio una questione di brand se tu pensi a pokemon è vero ci sono le lotte tra allenatori appunto nel videogioco ma in realtà il la cosa da fare è completare il pokédex la quest finale completare il pokédex e ahimè si si traduce molto molto bene anche nelle nelle carte questa questa è la risposta è la risposta al 90 per cento giusta la la per lo meno appunto per quanto mi riguarda l'altro 10 per cento in questa in questa verità è che io ci ho anche provato ma uno sono abbastanza scarso a giocare effettivamente con i giochi di carte sono sono abbastanza scarso sebbene appunto io continui a provare a seguire il competitivo provare a giocare online però diciamo se mettiamo un po il fatto che pokemon è improntato di base come brand sul collezionismo e in più appunto io sono abbastanza scarso è venuta fuori così è venuta fuori naturalmente questa propensione al collezionismo piuttosto che al giocare prima hai detto che hai iniziato praticamente con i primissimi set set base quindi i primi quattro base correggimi se sbaglio base fossi il jungle e team rocket che sono i primi quattro set che poi come ogni altro tcg che si rispetti fa creano le fondamenta dove poi l'intera struttura che si crea negli anni a venire procede diretta verso il successo poi hai detto che hai interrotto per 14 15 anni e riniziato con il blocco di sole e luna ebbene ti dico la domanda che voglio farti è la seguente tra i set base e il blocco sole e luna c'è un set nello specifico che ti ha appassionato come collezionista che dici questo è il mio set bellissimo fantastico e ti è rimasto praticamente in mente allora diciamo che ci sono tante anche in questo caso ci sono tante risposte perché trovarne uno considerato che ad oggi ci sono più di 50 set nel mondo pokemon tra mini set set alcuni che non sono usciti in italia altri altri sì è molto difficile molto difficile quindi io per rispondere a queste domande preferisco magari separare la cosa in due ovvero ciò che è vintage e ciò che invece mi piace con questi miei nuovi vestiti da collezionista un po più adulto e quindi appunto se ti devo dire la risposta del vintage del me piccolo la risposta in realtà non è tanto un set ma è un mini set che usciva solo in inglese da noi nelle edicole e tra l'altro è proprio questo qua in questo binder che me lo tengo sempre lì è il mini set di southern islands sono 18 carte una più belle dell'altra dell'altra e assieme tutte 18 creano proprio un mosaico quindi quella è la mia risposta del mondo vintage nel mondo odierno nel mondo odierno secondo me la pokemon company sta facendo delle cose incredibili ultimamente ogni set a livello di artwork è più bello del 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 precedente e quindi ora come ora sono un grandissimo appassionato del del ormai terzo ultimo set che è uscito a fine 2022 si chiama zenit regale ed è uno spettacolo è veramente uno spettacolo chiude un po il blocco spada e scudo e è incredibile non saprei come altro definirlo è vero devo dire la verità è veramente interessante anche se ultimamente abbiamo visto il charizard ve lo metto qui dove sono io in questo momento insomma potete vedere da voi la bellezza di questa carta comunque riprendo utilizzo praticamente le parole che dice un po come nei film qualsiasi cosa dirai potrà essere utilizzata contro di te in tribunale in questo caso sul crogiolo la domanda che vorrei farti è ricollegandoti al alla terminologia che hai utilizzato prima collezionista adulto perché si sa no i collezionisti in erba non hanno tutta questa grande almeno che non sia già grandi con un lavoro non si ha tutta questa disponibilità economica per poter affrontare seriamente un set e concluderlo mentre persone come magari te me che iniziano ad essere abbastanza tu non lo so perché sembri abbastanza giovane io invece già sono con un piede mezzo piede dentro la fossa abbiamo la possibilità grazie ai nostri lavori rispettivi lavori di poterci permettere magari qualche chicca in più e concludere dei set che magari ci siamo lasciati alle spalle come hai detto per quanto riguarda il set base ecco per quanto riguarda per l'appunto il l'essere un collezionista adulto la domanda che voglio farti è la seguente come pianifichi all'interno della tua vita il collezionismo quali sono le azioni che programmi a livello giornaliero settimanale mensile ed annuale che devi svolgere per diventare un collezionista semiprofessionista o professionista insomma sì allora diciamo che è molto complesso diciamo la 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 cosa bella del collezionismo di carte pokemon appunto è che non c'è un modo specifico di collezionare e quindi fortunatamente chiunque può crearsi la propria strada sia avendo magari un budget più importante che anche magari avendone uno un po più un po più scarso insomma un po più un po più basso io personalmente funziono a obiettivi porsi degli obiettivi magari non a livello giornaliero ma già a livello mensile e già a livello annuale sono estremamente importante sono molto 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 importanti e anche perché appunto diciamo che una persona con tanta disponibilità economica potrebbe essere portata se non si ha effettivamente un'idea di dove si vuole arrivare a semplicemente spendere 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 un sacco di soldi comprarsi un sacco di box un sacco di pacchetti per poi magari appunto non essere neanche a metà del completamento del completamento di un set e in realtà appunto è proprio diciamo lì il trucco di di un collezionista che sa effettivamente cosa sta facendo se si vuole ad oggi completare completare un set prima di tutto è importantissimo è importantissimo sapere che non si può fare non si può completare non si può arrivare all'obiettivo del completamento acquistando solo materiale materiale sigillato prodotti dal dallo store di fiducia bisogna acquistare sì un paio di prodotti un paio di box belli importanti ci si fa una una base una base di comuni non comuni rare e qualche ovviamente carta importante che hai avuto la fortuna di trovare in questi in questi box ma poi è tutto un cercare al dettaglio le carte singole che sia che sia online che sia direttamente appunto dal dallo store di fiducia o che sia appunto alle alle fiere magari svariate fiere di comics and games quella è la cosa migliore che si può fare diciamo io io nello specifico appunto sono sì un collezionista di set ma non sono il collezionista ossessivo che tutti i set li deve avere completati io so cosa so molto molto bene cosa mi piace e so cosa non mi piace appunto e quindi appunto durante un anno vedendo un attimino quello che è quello che esce nuovi set che escono scelgo di focalizzarmi su uno massimo massimo due set e poi continuare pian piano a costruire box un po più importanti e poi carte singole di carte singole in carte singole budget mensili sapere quanto si può spendere per ogni mese e acquistare le carte pian piano e arrivare tranquillamente al raggiungimento di questo obiettivo quindi buy singles come dice anche il professore che mi segue sempre e quindi va bene acquistare le singole quindi crearsi una base attenzione per tutti i nuovi collezionisti questa è un'informazione fondamentale perché va a racchiudere l'essenza del collezionismo crearsi una base soddisfacendo il proprio istinto da sbustatore seriale e poi andare piano piano anche con dei risparmi parlo ovviamente per i principianti per gli esperti questo è un concetto più che superato oramai lo ripeto in continuazione a tutti coloro che mi chiedono per quanto riguarda one piece non per quanto riguarda pokemon come poter completare le varie raccolte di op 0 1 2 e 3 al momento e la mia risposta è sempre acquistate le singole soprattutto perché è un gioco molto nuovo quindi con un 150 euro si riesce a completare addirittura l'intera collezione formato standard sia chiaro è quindi ottimo veramente un'informazione che vale davvero oro per tutti i nuovi collezionisti ora una domanda che proprio spacca il meta in una maniera tremenda che senso ha per te collezionare pokemon allora a questa domanda io ahimè devo dare una risposta purtroppo abbastanza cliché perché perché se non lo facessi non sarebbe la realtà quindi appunto ci tengo a dire ciò che è reale e per me obiettivamente collezionare pokemon è è veramente essere restare giovane in un modo o nell'altro restare giovane continuare a divertirmi come quando ero piccolo avere gli stessi proprio lo stesso la stessa la stessa passione la stessa attesa nell'aprire nell'arrivare all'ultima carta e scoprire che magari appunto è la carta che stai cercando del set non non si scappa è un mix tra nostalgia è un mix tra tra divertimento e e basta diciamo io sul serio collezionare carte pokemon in questo momento per me è appunto restare giovane e divertirmi come quando ero ero piccolo e poi ultimamente si è anche aggiunto al fatto che sono molto molto fortunato nello stare riuscendo a costruire una bella community su youtube e quindi è anche un modo per rimanere in contatto con ormai tantissime persone che negli anni sto sto conoscendo infatti complimenti perché insomma la tua crescita è esponenziale chissà se un giorno magari ci riusciremo ad incontrare sul palco in una fiera ma mai dire mai ultima domanda magari mai dire mai le vie del signore sono infinite come come si dice ultima domanda poi chiudiamo pokemon preferito e perché pokemon preferito e perché anche qui si torna indietro indietro nel tempo quando ero piccolino pokemon rosso pokemon rosso uno dice vabbè pokemon rosso c'è squirtle scelgo squirtle e chiaramente appunto la l'evoluzione finale di squirtle è blast toys ho distrutto tutto cioè sono arrivato veramente all'inizio ero forse un po troppo piccolo e non capivo ancora il come si giocasse quindi praticamente avevo solo blast toys e un sacco di altri pokemon non allenati e quindi ho ancora veramente questi ricordi di io che finisco il gioco interamente con 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 questo con questo blast toys e ahimè mi è rimasto proprio proprio nel cuore ecco quindi anche lì sarebbe veramente veramente difficile riuscire ad immaginarsi un altro pokemon se non se non quello quindi proprio nostalgico fino in fondo ottimo veramente luca è stato davvero un immenso piacere averti ospite qui sul canale per averci fornito delle risposte davvero molto interessanti a te ad arricchire questo aspetto dei giochi di carte collezionabili che è il collezionismo per l'appunto che attira anno dopo anno sempre più appassionati vi lascerò tutti i riferimenti ai social e al canale youtube di make a wish come sempre in descrizione luca grazie infinite ancora grazie a te grazie a te mi sono divertito molto sono davvero molto contento mi auguro che le domande siano state all'altezza certo prima di salutarci però volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno guardando di iscriversi al canale lasciare un like di commentare o condividere questo contenuto con i propri amici in questo modo crescendo mi aiuterete a portare contenuti sempre più ricercati ed innovativi grazie infinite in anticipo signori che dire noi ci vediamo in un nuovo appuntamento de il salotto sul crogiolo e nei prossimi video in arrivo sul canale verso nuovi tcg ed oltre ciao